Questa è probabilmente la storia più terribile, sanguinaria, truculenta che sia mai stata raccontata al Falco del Gabbiano. Però è una storia interessante, è una storia di una donna che ereditando geni di pazzia dalla sua famiglia, è però una donna potente, stiamo parlando del Cinquecento, quindi ha potere di vita e di morte su tutti i suoi sudditi e ne abusa, si dice abbia fatto centinaia di vittime che lei ha torturato anche personalmente la contessa sanguinaria Elizabeth Bathory.